Una giornata scandita dei ricordi di chi ha scritto la storia del calcio Granata e di chi insegue il sogno della vittoria. Sono i picciotti del Toro, i tifosi nisseni della squadra piemontese, insieme per raccontare i trionfi e le vittorie di una squadra che quest'anno ricorda i primi 40 anni dalla conquista dell'ultimo scudetto. Attorno al tavolo di un noto agriturismo nissano i tifosi Granata hanno condiviso un pranzo e poi un intero pomeriggio assieme a due vecchie glorie del calcio, Luciano Castellini e Claudio Sala. Quando giocavo io eravamo del cartellino di proprietà della società, quindi tante volte noi non sapevamo se c'era una trattativa in corso con un'altra squadra. Adesso praticamente il calciatore prende contatti con una società e la società di appartenenza non sa assolutamente niente. Noi facevamo contratti annuali, adesso si fanno contratti quinquennali e quindi chiaramente la differenza sta proprio lì, perché dopo un anno se non avevi vinto niente era difficile spuntare qualche cosa in più dal punto di vista del contratto. E quindi è cambiato tutto, sono cambiate le regole, sono cambiate le norme, il portiere una volta poteva prendere la palla con le mani e adesso non può prenderla e quindi chiaramente è un calcio completamente cambiato. Dire quale era più bello penso che lo possano dire solo gli spettatori. Grande accoglienza, la cosa più strana è che mi conoscono ancora e ci vogliono ancora bene. Pensavamo di essere stagionati, invece probabilmente si è riaccesa una fiammella di entusiasmo ancora. Maglia Granata è chiaro, ti lascia un segno, però non sono... guardo avanti ancora, sono ancora in questo mondo del calcio, però è stupifacente che vieni in Sicilia e trovi tanti tifosi del Toro, questa è una cosa particolare. Due campioni d'altri tempi, un esempio per i giovani tifosi che durante la giornata hanno ascoltato con grande entusiasmo gli aneddoti e successi degli anni d'oro del Toro, ha commentato il presidente regionale Renzo Zambuto dei Picciotti del Toro. Non è la prima volta, abbiamo invitato altre bandiere, altri ex giocatori, tutto questo grazie al nostro presidente regionale Renzo che con i suoi contatti è riuscito a portare questi amici, perché io li chiamo amici, perché sono persone che con noi si riuniscono, ci troviamo dietro a un bicchiere di vino, dietro a un piatto tipico nostro e ci raccontano degli aneddoti che magari sui giornali non si trovano, quindi è bello riunirci qui tra amici, tra questi ex cambioni che veramente ci stanno facendo ritornare indietro nel tempo. Siamo arrivati tre anni fa, grazie a Davide siamo riusciti a fare una sede qua a Cartanissetta, lui era poco credente di riuscirci, infatti passiamo uno o due, infatti adesso siamo molto di più di uno o due, credo, e quindi gli ho sempre promesso che gli portavo dei ex giocatori amati da tutti noi e lui ha detto proviamoci, i risultati li abbiamo visto, no Davide? Ci sono, ci sono. Quindi noi continueremo su questa via e continueremo a divertirci. Per noi è un divertimento questo.